Benvenuti in questo nuovo video, oggi giocheremo a My Little Universe, adesso aspettiamo che si carica, adesso c'è la versione 2.2.1, e vedete che aspettiamo, io vi farò un prezzo, sentite sempre cosa ho detto in questo video, però lo ripeto, sentite che ho un po' questa voce, non si strana perché sono un pochino affermato, e comunque, intanto io continuo a fare video, perché intanto non è che sono tanto malato, e poi intanto vado a scuola, quindi non ero malato, ma non avevo a scuola, non si sono riuscito a vedere video, però intanto posso, perché non sono un po' così, E quindi, adesso ne ho scovato la linea, e qui almeno, Ho i più, adesso ci sono già andando a cities tollo, tutto questo è un pochino, anche una ciocca, è una cosa è un pochino, lui è una cosa, da la c'èa, è un pochino che ha fatto un pochino, è un pochino e un pochino, è un pochino, è un pochino, è un pochino, sono un pochino, è un pochino di da spettare, un pochino, è un pochino e hoекci e da faccio un pochino. Alla scolare fordola a scolare le persone, si fanno in помorso che ci sono più o pochino? Ma, ho, non è possibile. E vi toggo a sinna, com'è bravo a bólu. Grazie a tutti, grazie a tutti. E' vera, ok. Ok, mago bu. E' vera, ok. E' vera, ok. C'è una cosa che c'è, è un pollo. E' 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 un pollo. ok se vuoi il corno non ok qui vengono giugno non 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 si non a casa mia quindi ah guarda ma potete fare ma potete fare aspettatemi che se mi volta ho visto il numero io ho abbastanza grande carina quindi aspettiamo 5 ok non ho capito come funziona con una lama e basta fai questo da un circolo se tu vuoi fare un quadrato di sicurezza che tu hai il mezzo e potete fare undici pensavo che erano magari erano 12 comunque vedete ci sono i piccolini i piccolini ci sono questi questi occhi e si estu hann o aga stig ok 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 rilla Ero laugina, semmo, kom. Ero. 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 La vera a fara upp i ferra. Ero. Sì, aveva l'esterno. No grazie, non voglio... Non voglio uscire. Ok, orco uccide. Ah, non gli uccide un... Non lo lascio. Non voglio uscire. Spero che non mi ritraffiare. Beh, se non puoi andare sul lato verso là. Guarda. Ma almeno... bravo. Adesso vengo con... gli occhi. Ski, hún er að koma með þessu. Ski, hún er að koma með gangi. Ski, hún er að hún átti. Þegar sé, hún er að góða þetta. 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 Ski, hún er að góða þetta. Og hún er að hún á að. Það er að búinn þá ekki, náðu faginu og nefðu að sé hvora á afi. Hún er að kynnaði með þoli verið enn í rindjústof. però vabbè ok quindi andiamo alla scavare questa regna si questa regna va bene questa regna va bene ok comunque ragazzi io volevo dire questa app che usano per registrare xlord è un app in cui potete abbraccio per dettagliare i video o disegnare i video e tipo un app per conni anche se come come dei un app un app ai app è come in a i a �� O grati a te, o gatti lei e a pialli a grellare! Mi kemi armi sí aste. Ok, 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 ok. Bye where are you. Ok, ok, ok! Ok, ok. e 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 Begja a tutti. loud. Ma-ha tutto다가 tutti. S경, mangat misunderstood. È un disco ontario. No, no. Sśli. erti Correcti sound. Sì, è un dec善. Il nore bolo lasso. Añadda, graffi, graffi, graffi! Og hvað tökur að hagi, graffi? Ertu hann? ECCA, graffi! ECCA, graffi! Oggi, graffi! ECCA, graffi! ECCA, graffi! e 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